Il progetto In Action mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Lo scopo è di produrre conoscenza e consapevolezza sui temi energetici e di rendere gli studenti e le studentesse dell'Università di Bologna i protagonisti di un percorso di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo abbiamo lavorato con un gruppo di 17 iscritti e iscritte al corso di laurea magistrale in architettura e chiesto loro di rispondere a una serie di domande sul tema trasversale dell'energia. Questi video resi pubblici sono il lascito del progetto In Action, da e con gli studenti per la città e il territorio. L'Università all'interno dei processi di transizione energetica ha un ruolo fondamentale di educare le nuove generazioni a compiere azioni sempre più consapevoli per un futuro sostenibile. di andare a formare quelli che sono i cittadini di domani, andando quindi a farli sviluppare una consapevolezza, una conoscenza nei confronti delle tematiche così importanti come quelle energetiche e ambientali, ma anche la capacità di andare a fare ricerca e ad andare a diffondere al di fuori proprio dell'ambito universitario quelle che sono le tematiche così inerenti proprio al mondo dell'energia.